Tragico incidente stradale in Austria, Schladming in Stiria. Un autobus con a bordo 32 persone è uscito di strada precipitando in un dirupo. Un uomo di 31 anni è morto sul luogo dell'incidente. Cinque altre persone, tra cui l'autista di 51 anni, sono rimaste gravemente ferite. L'autobus viaggiava dalla bassa Baviera in Germania in direzione di Schladming quando, secondo una prima ricostruzione, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte finendo la sua corsa ai piedi di una scarpata. sul tetto piatto di un edificio aziendale.